Un gruppo di ascolto in condominio di Milano-Lorenteggio mi scrive Ci piace l'immagine della corsa che usa San Paolo. Lei dice che si corre con gli altri, che non si è soli anche nella fede. Crediamo però che la fede sia una sfida personale, ha ognuno il suo percorso e la sua responsabilità. Sbagliamo? No, non sbagliamo, perché il Signore dà la grazia insieme alla responsabilità della fede a ciascuno di noi. Interlocutore di Dio è l'individuo, è il singolo, è la persona nella sua unicità e irripetibilità. Soprattutto davanti a Dio noi non siamo mai un numero. Ma è anche vero che Dio ci raggiunge in Cristo, ci raggiunge nel corpo di Cristo, che è la sua Chiesa. E allora, se è vero che ciascuno di noi crede, è altrettanto vero che tutti noi insieme crediamo. E questo è molto bello e significativo, perché ci dice che noi possiamo essere aiutati dagli altri nella nostra fede. E nello stesso tempo noi, con la nostra fede personale, personalissima, possiamo essere di vero aiuto anche agli altri. Marianna da Pavia mi scrive, lei ha parlato di perseveranza nella fede. Io capisco che è un valore anche negli impegni, nel lavoro, nello studio, però nella vita di fede è un'altra cosa la perseveranza. Non ho sempre voglia di pregare, di andare a messa, ma di vedere mio marito, mia figlia, le amiche, ho il desiderio. Non amo il Signore, quindi. E' molto bello avere il desiderio. E il desiderio riguarda tutte queste realtà umane, ma riguarda anche la realtà dell'incontro, del dialogo, della comunione con il Signore. Il desiderio va coltivato e può essere coltivato davvero quando la fede è qualcosa di bello, di grande, di significativo. E dunque è necessario cogliere la bellezza della fede, perché soltanto così è possibile essere perseveranti nella fede. Devo anche aggiungere che la perseveranza è uno dei doni che il Signore ci fa. Per questo dobbiamo chiederlo e nei momenti di stanchezza, nei momenti nei quali ci pare che la fede perda il suo splendore, o non dovremmo mai dimenticarci che il Signore ci è vicino e vuole aiutarci per recuperare una visione davvero di incanto della fede. E aggiungo che anche questi momenti di stanchezza sono preziosi, perché servono a purificarci nella nostra fede, a rendere la nostra fede più autentica. Piero mi manda questa domanda. Mi sento schiacciato dai problemi, dalla situazione sentimentale in cui mi trovo, dai rapporti difficili. Il senso del peccato e un malessere generale mi impediscono di gioire anche delle piccole cose. Lei parla di gioia della Pasqua. Come può essere mia? Ecco, Piero, tu parti dal senso del peccato. Io devo dire che questo è un dono. Sì, perché questo ci fa veri. La verità che è dentro di noi è anche quella del male. Però subito devo dire che nel disegno di Dio il senso del peccato diventa, per così dire, una chiamata, un appello ad affidarci al suo amore, alla sua misericordia. Prova a pensarci. Vorrei dirti. Prova a fare l'esperienza. Non c'è nulla che riesca a far scaturire dentro il nostro cuore la gioia, la gioia vera, la gioia piena, che sentirsi raggiunti e riempiti totalmente dalla misericordia del Signore. Sì, Lui ci ripete sempre queste parole. Tu sei prezioso ai miei occhi, anche quando siamo in un momento difficile o addirittura stiamo compiendo un'esperienza di male. Lucia di Trezzano su Naviglio mi scrive Aspetto sempre alla Messa del Giovedì Santo, la Via Crucis, la Notte di Pasqua. Sono ben curate. Le altre domeniche però non riesco ad appassionarmi così alla Messa. Le celebrazioni domenicali sono tutte uguali. E alcuni preti non le curano. Perché è tanta sciatteria? Ti devo dire che la liturgia della Chiesa non è soltanto la preghiera del sacerdote ma è la preghiera di tutta quanta la comunità cristiana che vuol dire allora che tutti possiamo e dobbiamo impegnarci per rendere questa preghiera liturgica della Chiesa una preghiera bella, una preghiera che è capace di raggiungere il cuore, una preghiera che ha la forza di sostenere e irrobustire la nostra fede appunto nell'incontro invisibile ma realissimo con il Signore. Certo, corriamo tutti il rischio di una liturgia talvolta stanca, ripetitiva, priva di fedeltà e di creatività. Una parte grande di responsabilità l'ha il sacerdote. Ma se qualche sacerdote può essere aiutato ad essere impegnato maggiormente nel curare la qualità della liturgia o vediamo di essergli vicino e di portare anche noi il nostro contributo perché, ripeto, il problema non è soltanto del prete, il problema è di tutti noi. Da Sciacca Ferdinando mi presenta questa domanda. Non sono riuscito a seguire la sua catechesi, ma ho scoperto che potevo farle una domanda da internet. Perché Dio fa morire suo figlio sulla croce? Perché ammette il male? Non poteva salvarci con l'amore, convertendo i cuori pacificamente, come Gesù faceva predicando? Perché Dio fa morire suo figlio sulla croce? Questo è il grande mistero che stiamo celebrando nella prossima settimana, la settimana santa. Sì, Dio ci salva con l'amore, ma per lui l'amore significa farsi vicino a noi, farsi solidale con noi. E noi siamo persone che soffrono e persone mortali. E allora il Signore, pur essendo innocento, non avendo neppure la più piccola ombra di male, lui ha voluto sperimentare la sofferenza e la morte. E in questo modo lui ci ha testimoniato la grandezza e la bellezza del suo amore. Lui ci ama e ci vuole conquistare, non con una potenza fisica, ma ci vuole conquistare appunto con questo segreto affascinante e appunto capace di far cedere anche il cuore più ostinato nel male, che è il segreto dell'amore. Non c'è una contraddizione tra l'amore e la morte. Al contrario, la morte di Cristo è il segno più alto del suo amore e del suo donarsi in totalità a tutti e a ciascuno di noi. A me e a te, caro Ferdinando.